E ti stai fai dal countdown! Allora adesso non è bravo solo a tagliare. Sette, due, ed assi, non mi ha capito. Tocca a te! No, a ginella non va. Italia, Italia, andiamo in discoteca. E' un momento, ma di vicino c'è un impianto. C'è. Hai le mestruazioni? Non sto bene, non lo so. Che hai? Portami a casa. Che hai? Italia. Italia. Che c'è? Portami a casa. Che c'è? Portami a casa. Che c'è? Che c'è? Che c'è? ź tomm pensazione. Grazie a tutti.